Grazie a tutti. Un altro tema molto caldo nell'agenda politica algerese è quello riguardante il futuro dell'aeroporto e la sua privatizzazione. Abbiamo sentito Gian Pietro Moro di Sinistra Civica e Graziano Porco del Movimento 5 Stelle. In questi giorni è avviato un corso rivolto ai pescatori professionisti allo scopo di progettare iniziative a favore degli operatori della piccola pesca. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'informazione su Catalan TV. Come avete sentito dal nostro sommario apriamo con la questione riguardante le famiglie Rom perché questa mattina si è data attuazione allo sgombero dell'Arenosu. In una conferenza stampa il sindaco Mario Bruno ha elencato i passaggi che hanno portato all'assegnazione di case alle famiglie Rom residenti in città. Ma ripercorriamo tutto nel servizio. Questa mattina è il via alle operazioni di sgombero dell'Arenosu. Le ruspe sono entrate in azione per buttare giù i fabbricati in legno che sino a pochi giorni fa hanno ospitato la comunità Rom. Sul posto a seguire le operazioni la polizia locale, l'ente Foreste, i carabinieri e la polizia oltre al sindaco Mario Bruno e l'assessore ai servizi sociali Ninansini. E proprio in mattinata il primo cittadino in una conferenza stampa con la giunta quasi al completo ha ripercorso i passaggi che hanno portato alla sistemazione delle famiglie Rom, 11 quelle censite dal comune, in appartamenti della città. Nel ringraziare le associazioni che hanno lavorato su questo fronte, in particolare l'Asce Rom e il centro di ascolto, ha ricordato come i contratti di affitto per 4 anni siano coperti dal punto di vista finanziario dai 250.000 euro che la regione ha stanziato per l'emergenza Rom. Ma con i fondi europei, ha ricordato Bruno, l'obiettivo è prolungare il progetto di inclusione sociale per altri 7 anni. Un progetto che non riguarda soltanto l'aspetto abitativo. Con l'aiuto del centro di ascolto è stato stipulato ad esempio un contratto con un'azienda di San Marco per consegnare a una famiglia Rom un cappannone di smesso nel quale poter lavorare. Per quanto riguarda la sistemazione della famiglia Rom che mancava l'appello, in attesa di trovare un appartamento che possa ospitarla, per ora alloggerà in un camper, in un terreno privato già individuato perché la richiesta è quella di un alloggio in una campagna. Per quanto riguarda infine la bonifica dell'Arenosu è ancora da quantificare il danno ambientale. La stima è che la regione non spenderà meno di un milione di euro. E ora ascoltiamo in merito un passaggio dell'intervista realizzata con la capogruppo in consiglio comunale del nuovo centrodestra Maria Grazia Salaris nella quale si parla tra l'altro dell'emergenza abitativa in città. Per quanto riguarda l'emergenza, ci sono state delle polemiche in città per quanto riguarda il reperimento di questi alloggi. Sì, diciamo che in città si erpeggia un grandissimo malumore che è palpabile e respirabile. In qualche maniera forse anche giustificato perché il reperimento delle risorse è stato celerissimo. Bisogna dare atto al sindaco Bruno di avere sicuramente trovato il canale giusto per reperire nel giro di 24 ore così come ha riferito questi 250 mila euro. Però diciamo che parallelamente o forse prioritariamente era opportuno reperire altrettante risorse per poter far fronte anche all'emergenza abitativa dei nostri concittadini che in questo momento in qualche maniera si sentono discriminati. Gli uffici dei servizi sociali hanno approvato la seconda graduatoria provvisoria delle domande di ammissione a Nido Difanzo Educativo 2014-2015. Eventuali opposizioni alle graduatorie possono essere presentate in carta semplice indirizzate all'assessorato ai servizi sociali presso il protocollo generale in via Sant'Anna entro e non oltre il 2 febbraio 2015. Entro gli ulteriori 10 giorni la commissione competente si pronuncia sulle eventuali osservazioni adotta il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive consultabili all'albopretorio e sul sito del Comune di Alghero dove restano pubblicate per 15 giorni. La graduatoria definitiva dà luogo in caso di disponibilità dei posti e altre nuove ammissioni. La famiglia dal momento in cui riceve la comunicazione della disponibilità all'inserimento del bambino a Nido da parte del competente Ufficio dei Servizi Sociali ha 5 giorni di tempo per accettare il posto. Abbiamo parlato nell'edizione di ieri del nostro telegiornale dell'ultima seduta del Consiglio Comunale nella quale si è discusso del futuro dell'aeroporto e delle varie posizioni dei partiti. Oggi inizia il nostro ciclo di interviste con alcuni consiglieri comunali sul tema. Abbiamo sentito appunto il consigliere di Sinistra Civica, Gian Pietro Moro. Il dispositivo che noi andremo a creare per poi votare all'unanimità, mi auguro, all'interno dell'aula debba essere un dispositivo ovviamente forte e di grande impatto, di grande richiamo che metta la Regione nelle condizioni di darci ascolto. Creando quindi le condizioni affinché un privato sia agevolato anche nel poter acquistare questo 80% di quote e noi cercheremo anche di inserire all'interno del dispositivo la possibilità di scegliere insieme alla Regione, prima che un privato vada a comprare le quote, magari di decidere noi che tipo di aeroporto vogliamo, con quali rotte, con quali vettori, cercando di capire anche quale sarà il piano industriale che la SOGI e all'oggi dovranno andare a presentare. Perché tramite il piano industriale noi possiamo capire anche che tipo di aeroporto vogliamo, non soltanto parlando del sedimo aeroportuale, della pista, ma anche delle infrastrutture che potrebbero nascere intorno all'aeroporto stesso. Abbiamo ascoltato appunto il parere di un esponente della maggioranza appunto Moro. Adesso invece ascoltiamo il pensiero del Movimento 5 Stelle, espresso dal consigliere Graziano Porcu che critica soprattutto l'attuale management della SOGI. Noi pensiamo prima di tutto che il management attuale debba andare via. Debba andare via perché purtroppo per dichiarate incapacità. In più chiediamo che la città di Alghero sia presente nel tavolo delle trattative quando si parla di rotte. Siamo assolutamente d'accordo sulle promozioni, sul networking, sulle compagnie aeree che arriveranno. Io ho letto che l'idea è di incentivare dei finanziamenti a chi verrà in bassa stagione attraverso il proprio networking e dunque Ryanair e dunque EasyJet nel caso. Ma dobbiamo essere seduti in quel tavolo perché se domani è la regione che deciderà le rotte, visto quello che è accaduto in questi ultimi anni dove sembra che molte di queste rotte siano andate verso Olbia o verso Cagliari, il rischio con la nuova strada che aprirà, con lo scorrimento veloce che porterà gli abitanti di questa area ad Olbia in un'ora e mezza, il rischio è che si indirizzi tutto verso Olbia e verso Alghero. Dunque lasciando solo due aeroporti e facendo diventare Alghero un aeroporto secondario. E questo è un enorme rischio. E' un enorme rischio soprattutto per quella politica che grazie all'aeroporto è riuscita a procurarsi dei voti e oggi invece, vista l'incapacità dimostrata, rischia di mandare tutte queste persone a casa. E ora ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, torniamo subito dopo. E abbiamo la seconda parte del nostro telegiornale con la sanità, perché da oggi in Sardegna le visite specialistiche si potranno prenotare sul web. Sul sito del CUP Sardegna tutte le indicazioni passo per passo per poter usufruire di questo nuovo servizio. Da oggi è possibile prenotare comodamente da casa le visite mediche specialistiche connettendosi al sito cap.sardegnasalute.it in modo completamente gratuito e visualizzare in tempo reale date e orali disponibili per le visite su tutto il territorio regionale, provincia per provincia, con relativi tempi d'attesa, previsti e importo dei ticket. E' possibile poi annullare l'appuntamento e impostare la stampa della prenotazione. Si tratta di un servizio alternativo e complementare a quello delle prenotazioni telefoniche allo sportello. Alla fine della prenotazione online il cittadino dovrà stampare il promemoria che contiene tutte le informazioni sulla visita medica che dovrà effettuare. Questo serve per il pagamento del ticket sanitario, che si potrà pagare presso gli sportelli ticket aziendali, i totem casse automatiche di alcune aziende sanitarie o alle poste. D'ora in poi nessun sardo si sentirà dire che non c'è posto per visite specialistiche nelle asle della Sardegna, dice l'assessore della sanità Luigi Arru. Inoltre tramite un'applicazione per Android e Apple si possono misurare i tempi di attesa nel pronto soccorso della Sardegna. L'isola si conferma all'avanguardia, prosegue Arru. Stiamo offrendo a tutti i sardi che hanno la possibilità di muoversi un pool di specialisti all'interno dell'isola senza dover prendere aerei per andare fuori. Per quanto riguarda i tempi d'attesa, la Sardegna deve entrare negli standard dei LEA nazionali. Questo è il mio impegno preciso. Il servizio, infine, è sempre online, attivo 24 ore su 24 ogni giorno della settimana e fornisce in maniera trasparente e precisa al cittadino sia i servizi disponibili che l'agenda di prenotazione del CAP regionale. E oggi alle 17 all'Istituto Alberghiero di Alghero si parlerà di istruzione e formazione professionale come opportunità di crescita e di occupazione. Parteciperanno ai lavori Gabriella Esposito, assessora della pubblica istruzione del Comune di Alghero il professor Antonio Farris, presidente del Parco di Porto Conte il dottor Stefano Visconti, presidente del Consorzio Rivera del Corallo il dottor Roberto De Santis, il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier e alcuni ex-alunni. Il convegno sarà moderato dal dottor Pasquale Porcu, giornalista della Nuova Sardegna. Obiettivo degli organizzatori è comunicare ai giovani del territorio le opportunità che l'istruzione e la formazione professionale possono fornire in un momento di crisi economica come quella che la Sardegna affronta con una percentuale di disoccupati tra i giovani dai 18 ai 29 anni, superiore al 50%. Nei giorni successivi, il 30 e il 31 gennaio, dalle 16.30 alle 19, invece i docenti e gli alunni dell'alberghiero sono a disposizione per presentare il progetto Conoscere per orientarsi per scegliere la scuola apre al pubblico. Parliamo ora di pesca perché il Parco di Porto Conte, l'area marina protetta di Capocaccia Isola Piana, l'Agenzia Laore e il gruppo di azione costiera del Nord Sardegna hanno avviato un corso rivolto ai pescatori professionisti allo scopo di progettare iniziative a favore degli operatori della piccola pesca. Sentiamo i particolari. Da qualche giorno è iniziato ad Alghero un corso denominato la Rete del Pescatore Sardo dedicato ai professionisti del settore sulla diversificazione dell'attività di pesca. Gli incontri vengono tenuti tra Casa Gioiosa Tramariglio, sede del Parco di Porto Conte e la sede dell'Agenzia Laore ad Alghero. Grande entusiasmo e partecipazione tra gli operatori professionali della piccola pesca algherese che sono tornati alcuni dopo tanti anni sui banchi di scuola. Il corso di formazione avrà una durata di circa due mesi e si concluderà nel prossimo marzo. I pescatori, una ventina, hanno un'età compresa tra i 25 e i 70 anni e per loro è stato un vero e proprio primo giorno di scuola tra varie materie come inglese, legislazione, risorse ambientali del territorio, educazione ambientale, tecniche di promozione web e altre. Al termine è previsto un esame finale che prevede la discussione di un progetto formativo e didattico redatto da ciascun operatore. Il corso è il risultato della collaborazione tra l'area marina protetta Capocaccia e Isola Piana, il Parco naturale regionale di Porto Conte, l'Agenzia Laore e il GAC, gruppo di azione costiera del Nord Sardegna, con una serie di iniziative a favore degli operatori della piccola pesca. A dare il benvenuto ai corsisti il neopresidente del Parco di Porto Conte Antonio Farris, il direttore di Parco e area marina protetta Vittorio Gazzale, la dirigente del servizio risorse etiche di Laore, Marina Monageddu, e il presidente del GAC, Benedetto Secchi. Il marchio sarà la chiave della valorizzazione come strumento attraverso il quale si controlla l'accreditamento e sarà inserito all'interno della certificazione riconosciuta dal sistema delle aree protette della Sardegna. Si tratta di un vero e proprio laboratorio multidisciplinare che ha vari obiettivi, non solo quelli finalizzati nel corso, ma anche quelli di consolidare i percorsi di collaborazione intrapresi tra l'area marina, e gli operatori con l'apertura di uno sportello informativo per la piccola pesca a casa gioiosa. E ora una notizia di cultura perché è stato messo a punto il programma dell'ottava edizione di Sulla Terra Leggeri. In programma a luglio, un festival del territorio che diventa ancora più itinerante. Una grande festa della cultura che partirà in Campidano per arrivare poi nel centro di Olbia, di Alghero e nel territorio del comune di Sassari dove il festival è nato e dove continua ad avere uno dei suoi luoghi d'elezione. Sulla Terra Leggeri offrirà quest'anno ai suoi spettatori una serie di importantissimi momenti di approfondimento e studio. Per la prima volta, infatti, i classici laboratori del festival si trasformano in un vero e proprio cantiere di scrittura. Per informazioni su date e modalità di partecipazione si può consultare il sito www.festivalargentiera.it e questa notizia di cultura chiude questa edizione del nostro telegiornale. Ora vi lascio come sempre alle previsioni del tempo e noi ci rivediamo domani. Grazie e arrivederci.